eccoci mentre stiamo andando a poggio renatico per una libera stampa al cambiare qui c'è il mio amico Fulga buongiorno è una bella giornata vero? caldo? sì come al solito è una bella giornata vero Fulga? eh ma ayer ayer ho toccato il bagai al pastic abbiamo un passo ci sono troppo i raccolti si era un giro ci sono i raccolti sono i raccolti a tutti i raccolti ci sono i raccolti il giro ci sono i raccolti tutti i raccolti sono i raccolti sempre è un giro ecco barbiere ci stiamo rifacillando vedo Adriano ci stiamo abbiamo portato via tanto e noi io stiamo tornando a Poggio Renatico vedo Adriano quattro borghettieri stanno tornando ecco la libra sta per finire siamo a Mirabello eccoci guarda siamo arrivati alla fine di questa di questa libera a Poggio Renatico per cui alla prossima